Ciao Italia 5 Stelle Rimini, questo è il nostro gazebo, il gazebo della regione Emilia Romagna. Qui si stanno incontrando tutti i nostri consiglieri comunali, i nostri attivisti, stiamo scambiando esperienze, ci stiamo raccontando cosa stiamo facendo nei comuni e in regione. Abbiamo portato un po' le attività che noi stiamo svolgendo in regione. I consiglieri comunali in tanti piccoli focus hanno fatto delle micro-agorato e hanno raccontato le loro esperienze e i loro successi. Ognuno ha potuto imparare dagli altri, stiamo facendo rete e questo è quello che succede nel Movimento 5 Stelle e a Italia 5 Stelle. Anche noi consiglieri regionali ci siamo confrontati con tanti altri colleghi di altre regioni, ci scambiamo esperienze e facciamo rete per diventare una rete sempre più forte e per arrivare finalmente al governo di questo paese. Ieri sera abbiamo deciso insieme, dopo una votazione online, il nostro candidato premier è Luigi Di Maio, gli facciamo tanti auguri e questa rete servirà a sostenermi, a definire insieme il programma e lui porterà avanti il nostro programma. Non siamo un partito come gli altri dove c'è il partito padrone, dove c'è il leader padrone. Siamo una rete, siamo tanti cittadini, insieme costruiamo un programma e ci scegliamo un portavoce. Quel portavoce porterà avanti le nostre idee e la nostra forza. Avanti così! Grazie a tutti!